200 partecipanti, un battello ed una giornata di sole per celebrare assieme un anniversario, il decimo, dalla fondazione dell'associazione GFB Onlus, il gruppo dei familiari di persone affette da beta-sarcoglicanopatie e altre distrofie dei cingoli. Una giornata importante perché dieci anni segnano di fatto un traguardo costruito con l'impegno nel diffondere sempre più informazioni e assistenza, nel raccogliere fondi finalizzati al finanziamento di progetti che hanno come gol la cura della distrofia e di un gruppo di malattie muscolari ereditarie che interessano prevalentemente la muscolatura prossimale dei quattro arti. GFB Onlus di Talamona c'è e con questo evento ha voluto portare a bordo del Bisbino, un leggendario piroscafo di ben 110 anni, sostenitori dell'associazione, pazienti, famiglie, medici, ricercatori ed industrie. Prezioso il supporto dei volontari della Croce Rossa italiana per una crociera che, salpata da colico alla volta dell'isola Comaccina e poi passando per tre mezzo con la meravigliosa Villa Carlotta e navigando verso Bellagio, ha rappresentato un'importante opportunità di incontro, suggellando una storia fatta di dedizione, impegno ed una preziosa vicinanza. Un momento particolare per la nostra associazione, ha detto Beatrice Vola, presidente GFB Onlus, dieci anni di ricerca medica e scientifica, la base di partenza di ogni nuovo traguardo raggiunto in campo diagnostico e terapeutico.